L'ufficio studi di Confindustria Benevento ha snocciolato i numeri dei rincari che le imprese sannite si trovano ad affrontare a causa del caro energia. Bollette con cifre da capogiro che in circa un anno sono aumentate del 301% per l'energia elettrica. Ancora peggio quelle del gas con un più 654%. Spese che influiscono non poco sui rendiconti aziendali e che ora necessitano di essere abbattute, non solo con gli aiuti ma con azioni concrete per l'efficientamento e il risparmio, come ha evidenziato il presidente di Confindustria Benevento, resta vigorito a margine del commegno per presentare gli aiuti messi in campo dalla regione ed analizzare la difficile situazione. La prima cosa che io suggerirei ai miei colleghi, naturalmente combattibilmente con le esigenze, è l'efficienza energetica e anche la riduzione dei consumi. Se noi non capiamo che il nostro vivere è un vivere da consumisti, avendo già consumato quello che volevamo consumare, noi dalla situazione ne usciremo difficilmente a tempo breve. Fondamentale resta anche la costituzione delle comunità energetiche. I comuni, insieme con la regione, come ristoro ambientale, ultimamente stanno chiedendo la costituzione delle comunità energetiche, cioè al di là del grande impianto che viene realizzato e che produce dei proventi per l'imprenditore che lo realizza, c'è invece un piccolo impianto realizzato dall'imprenditore per l'amministrazione, per la costituzione della comunità energetica.